Ciao a tutti, devi diventare un bad boy per sedurre le donne. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco e ti ricordo il mio primo appuntamento con Seminario Online Seminario Online che sarà martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23 sul canale Felicità Benessere, quindi devi andare sul mio canale Felicità Benessere e la voce Seminario Online cliccare su Abbonati. Quindi, allora nel percorso di crescita personale, in questo caso per un uomo ma anche una donna però, deve essere in grado di capire, diciamo, un po' la psicologia del bad boy è importante acquisire un po' questa capacità di essere visto come un bad boy perché il bad boy, il ragazzaccio, diciamo così, tende naturalmente a sedurre tende naturalmente a conquistare. Perché? Intanto, come si comporta il bad boy? Quali sono le cinque chiavi per apparire ad una donna come un bad boy? Allora, la prima è quella di dimostrare sicurezza di te quindi dimostrare sicurezza di te vuol dire non, diciamo, essere eccessivamente insicuro nel tuo approccio cioè quando parli con una donna guarda negli occhi, usa un tono di voce sicuro essere un po' irriverente, questo è fondamentale Seconda caratteristica, devi esercitare fascino avere fascino, cosa vuol dire? Vuol dire, diciamo, non essere omologato alla media il fascino, la persona di fascino è una persona che si distingue in qualche modo quindi devi usare anche un look, un accessorio, qualcosa che ti caratterizzi rispetto alle altre persone molto importante questo e devi fare un po' di pavoneggiamento, un po' di peacocking, come direbbe mystery, diciamo poi, altro, terzo punto, devi prendere in giro le donne prenderle in giro significa, beh, significa scherzare, ma non essere riverente e poi vivere la seduzione come un gioco non come, ah, mannaggia, la seduzione, adesso, qua, come se no, deve essere un gioco, il gioco è la seduzione the game, ecco, un bad boy vive la seduzione come un gioco non confonderla con l'amore, qualcosa la seduzione è un gioco di interazione, un modo per passare edonisticamente il tempo questo è importante la quarta caratteristica del bad boy è fiero di sé e un pizzico di arroganza cioè, no, non essere arrogante no, ma un pizzico di arroganza è quello che va a qualificare un bad boy e poi il quinto punto è creativo è dimostra intelligenza, dimostra creatività dimostra che quando vuole arrivare in un posto ottenere qualcosa, sa scegliere la strada giusta si dimostra creativo, quindi la creatività e l'intelligenza sono la capacità di adattarsi ad un ambiente circostante ecco, queste, se tu svilupperai queste attitudini perché puoi essere un bad boy, significa avere un'attitudine riuscirai a drasticamente a migliorare le tue conquiste e questo sarà anche un percorso di crescita personale per te perché diciamo che la capacità di conquistare la capacità di sedurre per un uomo è un percorso di crescita personale di miglioramento personale, di poter ottenere dei risultati che altrimenti non otterresti bene, per questo video è tutto seguimi sulle pagine Instagram Massimo Terramasco iscriviti al canale e ti ricordo l'appuntamento con il mio primo seminario online martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23 per partecipare devi andare sul mio canale Felicità Benessere lascerò comunque il link qua sotto e abbonarti a Seminari Online per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo, ciao!